Carissimi amici della Pagnotomia, buona domenica! Innanzitutto vi presento il cartello che avete visto fotografato su una pagina di Facebook fatto da un artigiano argentino a mano, amici della Pagnotomia, un'idea che ho avuto quando ero in Argentina. Per non perdere tanto tempo vengo subito al dunque. Oggi parliamo di Standard Razor, nuovo e vecchio, vecchio di virgolette. Vi ricordate che più di un anno fa recensì questo rasoio che era venduto in questa confezione da questa ditta americana, giovane, che si chiama Standard Razor. Io scelsi il modello di alluminio aeronautico grigio. Qual è il capito? Che quando io l'ordinai attraverso l'email e dopo un po' questi signori mi contattarono e dicono ma stiamo notando un interessamento dall'Italia per questo nostro prodotto. Quindi siamo contenti che tu l'abbia recensito, insomma possiamo informarti se ne facciamo un altro perché abbiamo intenzione di farne un altro, un modello più aggiornato, migliore, migliorato. Io dico ma ci mancherebbe ancora, tanto io i rasoi per me non sono mai abbastanza, non lo sapete. Così è successo? Passato un anno di più mi hanno contattato, gentilmente hanno detto guarda se vuoi ti possiamo proporre un acquisto, io quando mi propongo un acquisto di un rasoio poi questo non è particolarmente caro insomma, ci sono rasoio molto più cari, non dico mai di no. E siccome la piattaforma su cui loro adesso sono è Amazon, immediatamente ho fatto la scelta, è automatica, esatto, io sono fatto così. Se me lo posso permettere chiaramente, questo è un rasoio che non costa tantissimo. Amazon America, quindi Amazon.com, se qualcuno lo voresse lo trova lì, è stato scontato in questi giorni perché mi sembra di aver visto. Eccolo qua il nuovo modello, ovviamente l'ho scelto nero in questo caso e vedete che già la novità è la scatola, no? Cioè siamo passati da una busta abbastanza anonima a una scatola con cui si può fare un regalo. con una scatola molto semplice di cartone, con il brand della Standard Razor e con una serie di, ecco, Alluminium Series Deep Black, che si chiama, una serie di indicazioni anche, come potete leggere, no? Le istruzioni per l'uso, insomma. Questo è disegnato negli USA ma costruito in Cina. però il prodotto è americano, cioè è venduto dall'unizia americana. Vedete che la scatola contiene il il rasoio in maniera abbastanza elegante, anche se è molto semplice. Quindi cartone. Però, per fare un regalo, ad esempio, effettivamente è più indicata questa che è il sacchettino. il rasoio. Eccolo qua. Eccolo qua. Il rasoio non si distingue molto a livello visivo dal precedente. Non si distingue molto dal precedente. Però la ditta, io ho avuto modo di chiedere, no? Informazioni di metà. Abbiamo apporato delle migliorie. In particolare, per quanto riguarda il fissaggio, che era poi il punto che alcuni giudicavano debole, del copri la metta con il manico. Che prima era regolabile, cioè non regolabile, cioè la vite era si poteva montare da una parte dall'altra. Adesso invece questo garantisce una montatura più più forte della lana, probabilmente. Anche il manico mi sembra di percepire un grip diverso. Forse migliore. Non l'ho mai usato, quindi non posso dire. a livello di testa sembrano molto simili. Però anche qua la ditta mi ha scritto che loro hanno apportato delle migliorie per quanto riguarda la potenza di rasatura, ma anche la come dire la dolcezza della insomma della rasatura. Io vi faccio vedere due teste che sembrano effettivamente molto simili. Però sicuramente non lo sono del tutto, perché se no non avrebbero fatto un modello nuovo. avrebbero semplicemente riproposto quello vecchio con un nuovo packaging. Anche perché ha avuto passare successo, perché era dato sold out mi sembra. Quindi io ho acquistato questa nuova versione e adesso lo proviamo insieme. Allora io direi di montarlo con una lametta e si sono carute tutte chiaramente con una lametta diciamo classica io direi un'astra verde per essere la contraria. Un'astra verde prendiamo la nostra la nostra astra verde e se sto recuperando eccolo qua astra verde è l'astra si è l'autofocus come al solito farebite ma è un'astra la montiamo ancora qua chiudiamo questo appena del pettine molto molto futuristico alluminio aeronautico ecco che il pettine torce un po' la lametta e notiamo un'esposizione importante non clamorosa ma importante la potete notare ma come anche era l'altro insomma che cosa utilizziamo allora innanzitutto io ho messo il mio Yaki 26 pennello l'obbligazione cinese sintetico con ciuffo taxido forse si chiama Ferrari questo modello non lo so bianco e rosso Yaki 26 nella ciotola che è la mitica ciotola di Rocco Rocco Contini sapone abbiamo questo altro sapone che ho trovato proprio in un negozio spero di leggerlo bene da Pirden Shave Cream Barbershop Classic questo è inglese questo è fatto a non contiene parabeni non so io non sono un chimico quindi non ho particolari competenze è fatto per quelli che ci tengono non è testato sugli animali tranne che sottoscritto scherzo ovviamente e è fatto a Sheffield tra le Sheffield mi sembra che sia un posto di lame quindi sapone di lame consistenza cremosa cremosa montiamolo allora cosa facciamo io direi secondo me è una crema guardate è una crema io direi di prenderne una ditata e di inserirla in questo taxidolo l'aiaki che lo ha metabolizzato io come vi ho detto i sintetici oggi come oggi quello che rimane non usiamo mo di prebarba o come barba sciacchiamo il viso e vediamo di montare questo sapone in ciotola cosa crema beh in una crema il montaggio praticamente quasi a secco vedete adesso mettiamo un po' d'acqua e lo facciamo sprigionare cioè è già protettiva così ecco ecco direi che basta vedete guardate come già queste poche gocce hanno creato con questo ciuffo taxido una bella crema normale quando è molto abbondante la crema perché non corri io metto sotto quindi recupero eventuali gli stacchi crema compatta eccoci qua eccoci qua ecco il grip intanzi tutto non è come dire la mano un po' scivola ma non tanto cioè è frenata quindi direi buono pettine closed quindi si sta mangiando letteralmente questa barba per due giorni e mezzo sento proprio la lama che agisce protetta da quarta disposizione protetta però da questo pettine che fa il suo lavoro allora impressioni la premessa è che io lo standard razor primo modello non lo usano tantissimo quindi ho dei ricordi che sono vivi ma non sono magari pretidissimi però questo l'ho trovato leggermente più amichevole cioè mentre col primo l'impressione aveva a dare a che fare con una lama molto esposta con questo la lama è altrettanto esposta ma forse per quei piccoli accorgimenti di progettazione migliorie che sono state portate la lama risulta meno più confidenza ecco spinge ad usare un po' di più cioè la si sente di meno però con i ragazzi ha portato via praticamente tutto non c'era una barba biblica biblica però c'era il viso e io direi di fare un obliquo sapone molto protettiva questa crema questa da per dan trovata in un negozio a torino mi ha fascinato questa confezione un po' vintage e mi ha facciano un po' troppe cose andiamo gli obliquo canta bene però per usare un termine inglese è friendly cioè brutto lo usare un termine inglese ma io lo dico per è amichevole ma speriamo che non sia un falso amico che poi mi siano tutte le irritazioni no ma a parte gli scherzi pur essendo una dama esposta moderatamente esposta mi pare mi pare che a differenza del primo modello che si sentiva un po' di più questa sia leggermente domesticata a livello almeno di gestione del rasoio gestione del rasoio l'alluminio aeronautico conferisce una leggerezza che può essere un errore più taglio cioè chi è abituato a noi pesanti potrebbe avere delle difficoltà ma altrettanto vero che la leggerezza consente alla mano magari meno esperta la mano del principiante di commettere meno errori meno scivoloni magari il rasoio pesante un po' tende a magari io adoro il rasoio pesante facciamo un contrapelino leggera insaponatura mi piace leggera per il contrapelo proprio solo per lubrificare la passata che deve essere appunto una passata assolutamente scorrevole scorrevole un po' tendo Eccolo lì, scorrere, scorrere nel contrapelo, mai impuntarsi. Eccoci qua, tutto a posto. Allora adesso facciamo una sciacquata di vita con acqua fredda, iniziamo a chiudere un po' di poi, ci puliamo così, facciamo una bella figura anche. Allora, dopo barba, siccome americano, rasoio americano, io ho pensato di andare. di Fine American Blend, profumazione che mi ha consigliato Luca e che devo dire che è ottima, va bene con tutto, come giustamente dice lui. Classica ma non vecchia. Io adoro i prodotti della Fine, rapporto qualità prezzo eccezionale. eccezionale. Eccoci qua. Allora, partiamo dal fondo per fare un attimo di piccole recensioni, mentre sciacquo la ciotola in modo che puoi... ok. Allora, dal fondo, American Blend, come abbiamo detto, fragranza classica ma non vecchia. quindi è un po' come il nero che sta con tutto, Fine fa dei prodotti di alta qualità, questo in particolare è una fragranza che mi piace molto. Pennello. ciuffo taxidoro ormai è una garanzia. Iaki fa degli ottimi pennelli, il manico come vedete con il ciuffo 26, bello massiccio, ha montato la crema in un man che non si dica e se non sintetico si sciacqua in un attimo e si asciuga anche in meno come puliti sintetici, guardate. Io posso anche asciugarlo così. Il pennello è già bene asciutto. Quindi, comunque, oggi come oggi, io dico che i sintetici sono il presente e il futuro della rosatura, in assoluto. La penso veramente così. Però vedete come intrappola. Adesso io che lo lavato, guardate, quello c'è ancora, guardate. L'avevo sciacquato, eh. Guardate, c'è ancora la crema. L'avevo ancora sciacquato. Quindi pensate quanto intrappolano, no? Poi se lo sintetico, uno potrebbe dire, ma sintetico è impermeabile, quindi non trattiene. Ed è che no. Questo ha ancora trattenuto, dopo che l'ha sciacquato abbastanza lungo, del sapone. E adesso è a posto. Ecco qua. Adesso è a posto. E andiamo al rasoio. Rasoio, allora, esteticamente, io grandi differenze con il modello precedente non ne ho percepite. Sicuramente il nuovo serraggio della vite fa il suo lavoro. Tanto la metta finisce nel suo camposanto. Fa il suo lavoro, perché comunque la differenza di rasatura io la sento. non tanto nell'efficacia, perché era molto efficace anche con il modello precedente, eh. Attenzione. Quanto nella gestibilità. Quindi probabilmente, credo, che i ragazzi della standard raso abbiano lavorato in questo. Cioè nel cercare di riuscire a coniugare un'esposizione che è importante. non è eccessiva ma importante. Con un progetto che permettesse una gestibilità maggiore. Ricordo che chi fosse interessato è su Amazon, Amazon però non quello italiano ma quello americano. Quindi, chi vuole. Quindi, ehm, che dire. Sono contento dell'acquisto, ehm, anche se uno poteva dire magari già l'altro. Sì, vabbè, però uno in più è sempre meglio. Poi, ripeto, provare è sempre un grande stimolo per prendere un rasoio nuovo. E come giudicare questo standard raso? Un rasoio per tutti i giorni ma anche per una mano un po' esperta. Un rasoio leggero, un rasoio che si può portare magari anche appunto in viaggio in quanto leggero. Un rasoio che consente, con la sua capacità di taglio, sbarbate anche importanti, di barbare una settimana, insomma, una settimana e mezza. E con questo progetto particolare, insomma, che è un po' simile a quello precedente ma che comunque è stato un po' migliorato. E il risultato sulla pelle è molto apprezzabile. Va bene, io vi saluto, vi auguro buona domenica e la prossima domenica vedremo di fare qualche cosa di più aggressivo magari. Vediamo. Buona domenica a tutti e grazie per che ci seguite, interagite con la pagina, insomma, YouTube. Sono molto contenti sia io che i due amici che partecipano, che sono Matteo e Luca. E niente, grazie a tutti e buona domenica. Buona domenica a tutti.